Ancora in fare un prototipo, arriva dalla California, il modello base costato di 2.5-3.000 dollari. Ho capito. La versione extra larga è così, ma tre volte sostanzialmente e costa più o meno doppio. E sarebbe dimensioni? Questo è 3x2, il massimo totale di scopo e la versione grande invece è 6x3. 6 metri per 3? Sì, una grossa 6 metri per 3. E voi siete collegati all'università? No, noi questa l'abbiamo qui in prova, io sono dipendente della fiera, l'abbiamo preso in prova, è arrivato dalla California, l'abbiamo montato, programmato e lo stiamo testando. Capito. Va bene. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti